Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo di fronte a un'altra prova, o la mano di Rea in questo caso, che si trova esattamente in questa posizione. È un po' nascosto in realtà, però se si esplora bene la mappa si riesce a trovare. Inoltre in quel forziere troverete la Masamune. Eh sì, probabilmente anche questa è una citazione a Sephiroth o a Final Fantasy VII in questo caso. E oggi, infatti, per rendere onore a questo ritrovamento, utilizzeremo la Masamune all'interno della prova di Rea. Prova di Rea che ha per l'appunto Shiva. E quindi cominciamo anche questa prova. Shiva tecnicamente non è male soprattutto per breccare. Quindi dovremmo essere abbastanza... Ecco, Brina e Malia. Ok. Quindi dovremmo essere... Certo, vedere Clive col mantellino che svolazza... Fa sempre il suo effetto, però... Grazie a tutti. Ecco questo potrebbe essere un problema perché qua ci sono i nemici che volano e quindi esatto se non li attiriamo rischiamo di perdere tanto tempo Ecco vedi il problema è che praticamente la brina di ghiaccio Malia la lancia lontana dall'avversario e questa è la cosa che un pochettino dà fastidio E' esattamente questo che dà fastidio Allora qui abbiamo Malia ed era glaciale ok vabbè Eh porca miseria Oh no Oh no Vedete uscima è molto buona per il fattore break Per cui Molto molto buona da utilizzare in questo in questo caso Ok qui adesso dovremmo avere era glaciale E quella si che è un'abilità forte per il break E quindi qua dovremmo ricominciare con Malia È polvere di diamante ed era glaciale Ok va bene Praticamente è già finito Ok va bene Ok va bene Ok va bene Ok va bene No è sparito No è sparito Peccato Peccato l'avrei breccato Eh sarebbe stato molto più veloce la cosa Ok Ok ho confuso Ok ho confuso Ok ora trovo io Un bel po' di ghiaccio Trovo io adesso Toro io adesso Porca miseria Che cazzo Che cazzo di attacchi fa? 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 Con il prossimo che dovrebbe essere l'ultimo Se non erro Dovrebbe essere Odino Quindi ultimo Quindi ultimo Ultimo monolite Odino E alla prossima E ovviamente mi sa che Utilizzeremo la Masamune anche contro Odino Perché fa un figo Sì 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 Fa figo Alla prossima